ciao a tutti da out of beat da tony saufa oggi vi faccio vedere un'app che ho scoperto da relativamente da poco tre mesi però la sto usando in modo fantastico c'è un'applicazione veramente strepitosa perché permette diverse cose tra cui quelle che state già vedendo ossia le gesture parliamo di fluid navigation gestures plurale attenzione perché non ne fa solo una ma ne fa diverse di gesture allora nello specifico questa è la schermata che vi troverete non appena avrete quasi che quasi vi troverete non appena avrete installato l'applicazione perché il quasi perché all'inizio ci sarà vi verrà spiegato come abilitare i diciamo le gesture quindi ad esempio il root quindi va in automatico dando semplicemente i permessi se non avete il root non ci sono problemi perché utilizzando dei semplici comandi adb tramite pc riuscirete ad installare l'applicazione a farla girare quindi è assolutamente un'applicazione che possono installare tutti perché usarla perché è assolutamente fantastica come vedete io le gesture da un lato dall'altro in basso ok in mezzo e e lateralmente ma attenzione perché ogni singolo tasto può nascondere una può impostare una seconda applicazione nel mio caso una seconda funzione nel mio caso c'è quella della devo andare nella home perché così mi fa tornare nell'ultima applicazione che ovviamente non funziona quando la prima volta che non mi funziona probabilmente prima prendo l'applicazione o disabilitato qualcosa prima di fare il video comunque la andiamo a vedere barra di navigazione in questa sezione decidiamo se o meno nascondere la barra di navigazione e anche alcune impostazioni della modalità immersiva andiamo nella sezione personalizzazione le azioni come vedete queste sono tutte le azioni che io ho impostato in pratica facendo uno swipe a sinistra io il torno indietro è l'applicazione precedente poi al centro ho impostato il la ricerca google c'è in pratica in basso potete personalizzare la barra virtuale con le gesture fino a quattro gesture e poi tappando sopra questa gesture potete impostare ulteriormente cosa fare vedi io ho messo l'app precedente in questo caso però non me la da non so perché però andando poi potete impostare le azioni oppure le applicazioni oppure semplicemente dei collegamenti ed è utilissimo cioè sinceramente personalizza la grande qui c'è la durata del trascino e il treno impremuto perché io per esempio qui ho impostato come seconda feature come seconda gesture quindi non staccando il dito dallo schermo lo screenshot così lo faccio con una mano ed è preciso l'impostato da una parte e dall'altra così lo posso fare anche con la mano sinistra ok mentre qui ho impostato google home sono belle anche le animazioni che ci sono che ci sono sotto scusatemi ritorno nell'applicazione quindi abbiamo visto le azioni le aree di innesco quindi se disattivarlo meno quando ruotiamo lo smartphone se spostare le aree di innesco quando c'è la tastiera lo andate a settare nel modo in cui vi trovate più comodo qui c'è l'area di innesco a sinistra quindi la sensibilità vedete ok aumenta lo spessore rispetto a quello di destra io l'ho impostato a due perché sono altrimenti rischi di non mi ricordo se l'ho impostato a due o a tre no no è a due anche la dimensione potete impostare vedete vi faccio vedere la differenza con con la destra e con il basso così non lo andiamo a ripetere poi sugli altri sulle altre tre zone sulle altre due zone la dimensione l'ho impostata massima in modo tale che facilmente ovunque mi trovo posso attivare la gesture e la posizione ok se spostarla più in alto o più in basso rispetto rispetto all'altra ovviamente c'è anche la sensibilità dell'area di innesco a destra scusatemi qui perfetto avete visto la riporto come era prima e quindi anche in questo caso non fa altro che ripetere l'area di innesco a destra e l'area di innesco in basso torniamo indietro le aree di innesco l'abbiamo visto lista nera qui possiamo impostare pausa senza messaggio di avviso a me non serve non lo voglio insomma un po di messaggi o che cosa non far fare all'applicazione qui si va a personalizzare la parte estetica della della gesture per esempio vi faccio vedere in questo caso selezionate il rosso quindi ci sarà il rosso lo potete abbinare al vostro alla vostra home al vostro wallpaper e fare quel checchio che volete volete anche il colore secondario può essere impostato l'animazione se volete il fluido elastico oppure no scusate dove l'ho impostato fluido elastico bolla ah forse in basso scusatemi fluido elastico sarà qua vabbè io metto bolla del bordo la dimensione laterale la dimensione inferiore sempre per quanto riguarda la l'animazione detto questo come vedete io nel frattempo la l'applicazione lo sto usando per farvela vedere qui ci sono i permessi che ovviamente dovete dare in base alle impostazioni in base a quello che impostate se impostate che tenendo lo swipe in mezzo deve aprirsi la rubrica o effettuare una telefonata dovete necessariamente dare i permessi alla rubrica qualche avanzata ma l'applicazione è sostanzialmente quella allora io questa ve la consiglio veramente alla grande è un'app fantastica e potete acquistarla provarla varie e baciare ci tenevo a farvi vedere questa applicazione perché la cosa buona di questa applicazione che voi una volta che la utilizzate se cambiate telefono e quindi poi un altro telefono un altro brand ha cambiato o ha delle gesture differenti non siete voi a dovervi adattare al telefono ma è lo strumento che si adatta a voi da questi datori soft è tutto fate i bravi iscrivetevi al canale e iscrivetevi anche al nostro nuovo canale telegram ciao a tutti alla prossima